buongiorno buongiorno sto cazzo ma perché già si è incavolato si ora sei bellino con questo maioncino oh li ha detto è brutto allora no è bellissimo donna maria buongiorno pronti un altro round che sta scassando ora fa il badante oggi vai e due c'è anche la nonna laura o no vai 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 una e due metterlo per bene mannaggia a quattro metri dell'altro metterla mi trema il braccio e lo scarpello al fronte no non è vero è il canguro al rosto smettela quando mangia il nonno gli fa le carezzine no non va bene si va bene guarda quando mangia le carezzine ma dov'è questo coso vedi che fa è cattivo ma tu gli fai le carezzine diventa buono bello lui guarda bello non ti tocca la testa ma è bellino guarda ma è bellino eh sì ma te ti scorgi tutte le gambe guarda ma è bellino guarda ma è bellino signor Don si guarda ma è bellino vedi lascialo stare oh guarda